L'agenzia per il lavoro di Confartigianato è già operativa, come vedete le nostre professioniste sono già al lavoro, stanno già parlando con tante nostre aziende che hanno richiesto personale qualificato, contattateci sia le aziende che tutte le persone che vogliono trovare, cambiare lavoro o hanno bisogno di un inserimento nel mondo del lavoro. Siamo qui a vostra disposizione in via Tiziano 26.